Buongiorno, buon lunedì, buon inizio di settimana a tutti con la pace, la benedizione e la grazia di nostro Signore e sotto lo sguardo benevolo e materno della mamma celeste. Inizia un giorno nuovo, inizia una settimana nuova e allora dobbiamo affidare questo giorno e questa settimana alla misericordia di Gesù. Mi ha colpito una storia. La conoscete? La storia della macchina che non parte? Non la conoscete? E ve la racconto io. C'è un bravo signore che tutte le mattine si veste, si prepara, fa colazione con tanta tranquillità e poi scende giù, va in cortile, si mette in macchina e si dirige verso il suo lavoro. Ma una mattina? Un imprevisto. Si alza, si prepara, fa colazione con calma, scende, va in cortile, si mette in macchina. Ma la macchina non parte. Prova uno, prova due, prova tre. Ma che sarà successo questa mattina? Forse fa troppo freddo e si è scaricata la batteria? No, ma la batteria funziona. Allora passa di lì il suo vicino di casa che è andato a portare a spasso il cane e dice senti amico mio, la macchina stamattina non mi parte, io devo andare al lavoro, so anche in ritardo, tu ne capisci qualcosa? E dice l'amico, il motore funziona? Sì. E c'è tutto a posto? Sì. Ma com'è che non parte? Cioè, mi fai provare un attimo? Posso salire in macchina tua? Prego, se riesci a farla partire te ne sono grato. Gira il quadro, ma c'è una cosa che non va. Indovinate? Non si alza la lancetta della benzina. In pratica non c'è la benzina. Eh, amico mio, la macchina non potrà mai partire, non c'ha il suo cibo. Qual è la morale di questa storia? Nella vita di tutti i giorni, noi siamo come, tra virgolette, una macchina. Possiamo avere la carrosseria a posto, possiamo avere tutto a posto, ma se non abbiamo l'alimento che ci fa partire tutte le mattine, resteremo fossilizzati lì dove siamo. E per noi la benzina che cos'è? È la grazia, è la benedizione di Dio. Senza la grazia, senza la benedizione del Signore, non possiamo fare nulla. Non possiamo andare da nessuna parte, non possiamo fare niente. Possiamo fare cose umane, ma le cose umane ci possono anche portare a fallire. Ma quando c'è la grazia di Dio, le cose di Dio non falliscono mai, anche se vengono messe alla prova. Allora, ogni mattina preoccupatevi di mettere un po' di benzina nel vostro cuore, nella vostra mente, nella vostra vita, nel vostro corpo. Cioè che cosa? La fede e la grazia. Rinnovate il vostro sia il Signore. Signore, io vengo per fare la Tua volontà. Assistimi, proteggimi, aiutami, santificami, governami, dirigimi i passi. E ora preghiamo insieme. Mettiamo quel bel po' di benzina che ci serve. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vi benedico. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. E adesso mettiamo in moto le nostre macchine, le nostre vite e camminiamo. Vi mando un bacio e oggi ci sono due appuntamenti di preghiera. Alle 14.50, Esposizione Eucaristica e Coroncina alla Divina Misericordia. Alle 16.20, il Santo Rosario a Maria che scioglie i nodi, sempre sul canale YouTube Don Francesco Cristofaro. Due avvertimenti. Prestate attenzione ai falsi. Io ci metto sempre la mia faccia. Non vi scrivo su Messenger, non vi scrivo su WhatsApp, non vi scrivo su Telegram, non scrivo a nessuno, ci metto la mia faccia. Altra cosa, quando ci sono i momenti di preghiera, se volete usufruitene, ma se non ci dovessero essere, non vi lamentate. Evidentemente, in quel giorno, non si può, non ci sono. Va bene? Ciao.